Imola, zona pedagna, appartamento al terzo piano con ingresso su sala, cucina, balcone, due camere da letto, bagno finestrato, garage all'interrato e cantina, palazzina con ascensore nuovo e rifacimento delle facciate in corso. Ciao, sono Alan di Garone Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere quest'appartamento in vendita. Grazie a tutti. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!